eccomi 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 buonasera amici amiche rosso neri e vai ragazzuoli e ragazzuole belle buona serata di questo mercoledì 20 settembre ore 18 43 del 2023 e buona giornata se mi vedi il giorno dopo di 21 settembre 2023 di giovedì ragazzi perché sorrido ve lo dico subito questo maglioncino prima delle partite non lo metto più questo maglioncino di cotone che io adoro avere ne ho tanti di maglioncino di cotone ma io praticamente scusate non lo metto più questo non lo metto più non me ne frega più niente perché porta una sfiga che metta basta va bene ragazzi vi abbraccio tutti andiamo avanti guardiamo soprattutto avanti perché abbiamo già capito pioli out via pioli deve essere licenziato e non mi rompete le balle a quelli di voi che ieri perché ragazzi metto il cuoricino quando leggo questi messaggi ma anche se non lo metto adesso li leggo tranne che rispetto le vostre opinioni e non voglio né mettere cuoricino e neanche commentare per cui affari vostri però alcuni di voi ragazzi come si fa a dire che non è colpa di pioli ma è colpa dei giocatori ma come fate a dire una roba del genere ma noi abbiamo una squadra fortissima che è nettamente più forte del newcast dai ma non lo vedete che è l'allenatore che deve dare l'input alla squadra per mordere sul finale di partita e portare a casa un misero gol per fare i tre punti ma svegliatevi ma cadete veramente in questo trabocchetto da ingenui siete degli ingenui siete veramente degli ingenui lo dico a voi che avete dato la colpa alla squadra invece di dalla pioli quei pochi è quei pochi di voi allora ragazzi i protagonisti di questo video sono leao e ibra ibra perché c'è un motivo ben plausibile una notizia che è venuta fuori oggi importante adesso ve la dico e invece per leao io sinceramente non sono d'accordo con i tifosi milanisti che criticano leao perché la gazzetta oggi a caratteri cubitali ci sono i tifosi rossoneri che criticano leao e se non era per colpa sua non vincevamo se non era per questo ma allora io ho sempre criticato leao in passato quando carcollava e chi mi segue da tanto tempo lo sa non dico mai balle questo mio canale alex cuorosso nero 2.0 è un canale serio punto questa è la verità l'ho sempre criticato quando c'era a criticare ma adesso cosa devo criticare ma ancora ma lo dico in generale adesso ma non avete visto che leao ieri si lamentava nei confronti di pioli perché la squadra in generale è involuta per le decisioni di pioli leao ieri non riceveva palla cosa continuava a menarla pioli dai la palla lunga girù dai la palla lunga girù ma che cavolo di girù che questo praticamente era era incastrato tra due difessori barra tre ma che cavolo di girù la palla andava servita o sul campo anche con lunghi con lanci non lunghi non troppo lunghi a leao questa è la verità ma che cavolo di girù che cavolo di girù ma questo non ci ha capito niente più ma pioli ma vattene ma mister gerry cardinale ma si vuole muovere a licenziare pioli comunque questo sarà il mantra del mio video più punto pioli alto adesso lo metto nella descrizione sotto il video pioli out fuori dalle palle che questo mi ha rotto e leao non ha nessuna colpa ragazzi non ha nessuna colpa lui è indolente è un bravissimo ragazzo è indolente quando le cose non vanno poi potreste dire ma allora non è un campione no non è vero lui si fa carico di quello che l'indolenza della squadra quella è la verità perché la squadra può iniziare a remare contro e la mia paura adesso è questa quello che non avrei sperato ma purtroppo sta succedendo volete vedere che la squadra rema contro quello che è successo l'anno scorso i due mesi e mezzo di buio totale del mina quest'anno pioli non ce li deve fare perché lui non si dimetterà mai per prendere i soldoni pesanti ma il cardinale furlani vi dovete dare una mossa che questo qua lo dovete licenziare subito è chiaro qual è il concetto perché l'anno scorso due mesi e mezzo bui schifosissimi e quest'anno ancora questo schifo no se lo tenga lui pioli perché sennò vado io a milanello urlare come un pazzo isterico perché adesso questo qua mi ha veramente scassato l'impossibile veramente io questo qua non lo sopporto più sei molle pioli sei molle vai ad allenare un'altra squadra vai vai muoviti quattro anni sei rimasto al mina adesso ci hai rotto veramente grazie di tutto grazie di tutto veramente ma adesso fuori dalle palle e maggior ragione nella notizia che è venuta fuori oggi ragazzi la notizia di oggi è di un dei giornalisti di calcio e finanza sono mettete come volete poi riprese da altri con le dello sport tutto il resto vabbè comunque analizzandola ho trovato un fondamento di questa notizia andate ad analizzare l'instagram di Ibra Reimovic si è fatto una foto con la sua nuova Ferrari da collezione in Milano attento Ibra perché ci sono di quella gente in giro e praticamente vabbè ti auguro il meglio ci mancherebbe e praticamente no perché è un'auto di un certo valore insomma e praticamente lui ha fatto la foto del riflesso di se stesso una vetrina di Milano una via e praticamente oggi viene ribattuta questa notizia che però ragionandoci sì ha un fondamento non solo perché la ribattono giornalisti comunque reputo seri che praticamente sembra che Stefano Pioli sia ben volenteroso di accettare nel suo staff nel suo staff Zlatan Ibraimovic ma ci credo che questo qua è volenteroso non sa più che pesci pigliare Stefano Pioli ma anche Bonera che cavolo sta facendo Bonera ma Bonera ma che cavolo ma avete visto che ma avete visto durante il derby che Bonera con il vice di Pioli e Pioli tutte e tre si sono presi a paroloni ma l'avete visto io dalle immagini le ho viste queste cose e nessuno lo dice erano tutti disperati incazzatissimi neri tra di loro tra l'altro ma ci credo che vuole Ibraimovic ma ci credo che vuole Ibraimovic ma è ovvio perché Ibraimovic non è mica come Pioli gli dice i nostri giocatori oh ciccio allora com'è la storia datti da fare e via andare via menare qui dobbiamo portare a casa il risultato questa è la verità punto a capo mentalità vincente e Antonio Conte ma che Antonio Conte che cosa che quello è un numero uno Antonio Conte ma non rompete le balle Antonio Conte questi qua li prende tutti ammazzate gli riforma il cervello lo risetta entra con le sue idee vedete che la squadra non si ferma più perché i ragazzi vogliono un leader vogliono un leader non vogliono uno molle non vogliono uno molle io non ho mai voluto uno molle uno molle che magari non so all'interno del mio gruppo io ho giocato tanti anni a tennis piuttosto che insomma se si facevano le partite in coppia piuttosto che altre cose che ho fatto insomma uno che fosse un leader all'interno del mio gruppo dai ma di che cosa stiamo parlando dai parliamoci chiaro ma veramente ma di ma di che cosa stiamo parlando ma stiamo parlando del nulla cioè devo venire qui ancora a fare i video e leggere alcuni messaggi di voi che siete liberi di scrivere quello che cavolo volete ma cercate di usare un po' di razziocinio un po' veramente logico per favore cioè della serie no la colpa di Leao la colpa del giocatore no ma Piole che colpa c'ha se questi non hanno giocato ma vi volete svegliare è l'allenatore che deve dare l'input alla squadra di tre punti bisogna portarli a casa ma la capite sta cosa sì o no dai perché anche diventa noioso fare questi discorsi veramente diventa veramente noioso fare questi discorsi noioso noioso fino alla morte guardate ieri sera la Lazio prevedere mi ha fatto divertire un casino ah poi questa storia di giocare le partite alle 18.45 mi sono rotto le balle veramente ma che ma che razza di orari di calendario hanno fatto ma vi avrete rotto veramente le palle di far giocare il Milano alle 18.45 sto sabato alle 15 ancora ma avete rotto le palle la gente ha cose da fare ma che è sta roba qua una roba contro di noi per far andare meno tifosi allo stadio ma fate schifo ma vi dovete vergognare voi che avete organizzato il calendario ma lo dico a tutti gli organizzatori della Champions League ma non vi vergognate una squadra un blasone come il Milano giocare alle 18.45 alle 15 ma adesso mi avete rotto veramente le palle anche voi ma questo mondo qui ma cosa sta diventando sto mondo a me sembra in generale un mondo di scemi vabbè comunque ci siamo capiti qual è il discorso ognuno libera a pensarla come vuole ma c'è una regola che vale nella vita in generale la logica la sana e pura logica e non le stronzate punto al capo avete capito qual è il discorso adesso vedremo Ibrahimovic cosa decide perché non è detto cardinale ha incontrato Ibrahimovic in corso Venezia a Milano ecco perché la foto con la macchina è tutto lui adora Milano adora il nostro Milan insomma si sente a casa sua e lui vuole stare a casa sua deve capire un attimino qual è l'offerta ovvio che il finale gli dice guarda che tu non è che devi andare con la dirigenza Moncada e Furlani d'Ottavio a comandare tu no non può perché non ha neanche l'esperienza però insomma entrare nello staff di Pioli insomma gli dice l'allenatore senti Stefano adesso mi hai rotto le palle magari qualche suonata qua sul copino se la piglia cioè parliamoci chiaro insomma ci siamo capiti e poi magari è un Ibrahimovic che fa le scarpe a Pioli perché tutto può avvenire cioè perché io ho sospetto che le cose andranno a finire così comunque qui faccio il finale poi chiudo a voi che mi seguite da tanto tempo a voi che tu a te che ti sei appena iscritto al mio canale non lo sai gli altri lo scrivono pure l'Alex già dal primo canale che mi è stato bannato e tutto il resto praticamente aveva già detto due anni fa Ibrahimovic entrerà nello staff del Milan punto e come al solito il vostro Alex ci azzecca quasi sempre ragazzi vi mando un abbraccio amici amiche vi mando un abbraccio forza mia sempre comunque ovunque adesso guardiamo con fiducia c'è sta partita di sabato alle 3 di pomeriggio ciao